Nella nuova puntata di Niente come sembra parleremo di manipolazione mentale, propaganda e ingegneria sociale. Insieme alla giornalista e scrittrice Enrica Perucchietti, autrice del libro La fabbrica della manipolazione, conosceremo le tecniche di persuasione più utilizzate dai mass media e dalle istituzioni e vedremo come difenderci dal condizionamento. Può essere infatti che al giorno d'oggi i governanti esercitino una strategia di manipolazione dolce dei cittadini, plasmandone i desideri, i pensieri e orientandone le abitudini, anziché imporsi con la violenza e la repressione. Penetrare nella psiche delle persone permette di convertirle e riprogrammarne la coscienza. Non perdetevi l'appuntamento sabato 19 novembre alle ore 20 e 30 su Telecolor.